Musica Fine settimana all'insegna della Marcorda e della Verità con l'attesissima rubrica De Sabato, applausi e fischi, chi sale, chi scende, promossi e bocciati. Applausi per questa settimana per Don Andrea De Foglio, parroco di Pesca a Seroli, che ha lanciato una sfida, provocazione molto originale, per alzare le nascite. Suonerà 100 rintocchi per ogni bebè. Una sfida che è piaciuta anche all'ostetriche del punto nascita dell'ospedale di Sulmona, che hanno girato a loro volta l'appello a tutti i parroci della città di Sulmona e della Diocesi, visto che anche in città e sul territorio c'è bisogno di nascite. Applausi per Antonella e Domenico Santa Croce. Sono diventati gli ambasciatori della cucina italiana del mondo. apprezzatissimo lo stage che stanno tenendo presso il Colorado College. Applausi per Katia Buglielli e Maurizio Cacchioni, la prima neocordinatore del Tribunale per i diritti del malato, l'altro della Federazione dei Medici di Base. Hanno formulato una proposta concreta per il rilancio dell'ospedale di Sulmona, il centro oncologico-radioterapico, che sono subito ripreso e ora attende risposte concrete dalla politica. Fischi, questa volta per i bracconieri, che hanno ucciso un cervo e hanno lasciato i suoi resti sulla strada provinciale tra intro d'acqua e bugnara. Un gesto condannato da tutto e da tutti, perché va contro ogni etica e ogni logica. Fischi per la banda del pacco, che è tornata a colpire in quel di Pacentro ai danni di una 75enne. Episodi si verificano in continuazione dalla Valle Peligna, alla Valle Subequana, alla Valle Sagittario, i malviventi continuano ad agire indisturbati, a discapito soprattutto delle persone anziane e delle persone sole. Fischi anche per il comune di Prato alla Peligna, visto che l'impianto di riscaldamento del teatro d'Andrea non è in funziona e ha fatto slittare l'avvio della stagione teatrale. Grazie.